Ciao artisti e benvenuti sul Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Oggi parliamo di un argomento che non è correlato al mondo dell'arte, bensì al mondo di YouTube. Certo, io sono un grandissimo appassionato di arte, ma il fatto di realizzare video e di caricarli su internet fa di me uno youtuber, no? E allora ho pensato, perché di tanto in tanto non portare dei contenuti che facciano conoscere questo mondo a chi ne è digiuno? O che possono dare consigli a chi vuole entrare a farne parte? E allora, iniziamo. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. L'argomento di oggi è gli haters. Ma chi sono esattamente gli haters? Diamo un'occhiata al dizionario. Colui che in internet, e in particolare nei siti di relazione sociale, in solito approfittando dell'anonimato, usa espressioni di odio di tipo razzista e insulta violentamente individui, specialmente se noti o intera faccia di popolazione. Quindi, in buona sostanza, l'hater è una persona che odia, che ce l'ha con gli altri. Qui su YouTube non si parla tanto di odio per motivi razziali, quanto di una forma di invidia nei confronti di chi lo riceve. Potrebbe anche capitare che qualcuno insulti un'altra persona per motivi legati al sesso, all'etnia, all'orientamento sessuale, eccetera. Però, da quello che ho avuto modo di vedere io, qui si parla molto più di gelosia legata al numero di iscritti che un determinato YouTuber ha, all'argomento trattato sul canale, al modo in cui questi argomenti vengono trattati, eccetera. Certe volte si arriva addirittura a insultare la persona per il suo aspetto fisico, sconfinando nel cosiddetto body shaming. E questo è un evento che ho visto verificarsi molte volte e che sono sicuro capiterà anche a me, prima o poi. Tra il fatto di essere molto magro, o avere un naso alla Sirono de Bergerac, sento che qualche imbecile verrà a spottervi puntando su questi aspetti, ma io ho già la risposta pronta. Ho qui a disposizione un kettlebell, non da tirarli addosso, ma da usare per gli allenamenti, una volta che mi sarò fatto preparare una scheda da personal trainer. E per il naso c'è sempre la rinoplastica. Purtroppo per un cervello che non funziona c'è ben poco da fare, forse è una visita dallo psichiatra, ma a volte neppure quella serve a qualcosa. C'è da dire che comunque tutti potremmo trasformarci in potenziali haters. Primo perché non si può piacere a tutti, è matematico. Per la legge dei grandi numeri, prima o poi qualcuno si comporterà con noi in maniera diversa rispetto a come si comportano gli altri. Secondo, tutti abbiamo i nostri problemi, grandi o piccoli che siano. Molto brutto a scuola, un litigio con i genitori, il fatto di aver trovato il partner a letto con qualcun altro, eccetera. Però io preferirei evitare di essere un hater a mia volta. Avendo subito bullismo sia alle elementari che alle medie, riesco perfettamente ad entrare in empatia con chi riceve continuamente messaggi d'odio. E quindi vi dico già adesso, non rispondete al male con altro male, perché si entra inevitabilmente in un circolo vizioso da cui non si esce più. Però, se invece siete voi che vi ritrovate ad avere a che fare con un hater, avete tre possibilità per affrontarlo. Uno, ignorarlo. Semplicemente se vi scrive fate finta che quel commento non esista. Il metodo che utilizza chi ha poco tempo e decide di non prestare attenzione minimamente a ciò che un gruppo di persone frustrate dice di lui o lei sotto i commenti richiede una certa dose di autocontrollo, ma sicuramente efficace. L'unico problema è che non intervenendosi potrebbero generare risse virtuali sotto i video. Due, moderarlo. C'è gente che decide di rispondere a chi gli muove critiche pesanti, molto spesso anche con lo stesso tono o quasi. Questo genera due scenari. In un caso la persona si calma e chiede scusa, nell'altro si infervora ancora di più e si genera un'altra risa virtuale. Tre, bloccarlo. È la strada scelta da chi ha poco tempo e vuole mantenere un ambiente pulito sotto i video e nei commenti. E penso che sarà proprio questa la scelta che farò quando arriverà qualcuno a scrivere commenti non graditi, che poi provvederò a cancellare. Prima ho solo fatto un po' di autoeromia che non fa mai male. Chiariamoci, se arrivano critiche costruttive, posso anche essere disposto ad accettarle. Ma se si tratta solo degli insulti di un idiota, seguo il consiglio di Virgilio, non ti curare di loro ma guarda e passa. O la frase erroneamente attribuita ad Oscar Wilde, che tra l'altro era omosessuale, quindi perfettamente in linea con il concetto di discriminazione. Non metterti mai a discutere con un idiota, ti cascina il suo livello e ti batte con l'esperienza. Credo di aver detto tutto. Se volete fare i miei youtuber vi do un ultimo piccolo avvertimento, non disattivate del tutto la possibilità di commentare sotto i vostri video, perché quelli positivi servono tantissimo. Io ogni tanto ne ricevo e mi fanno molto piacere. Se invece non volete fare gli youtubers, provate uno dei tre consigli elencati nella vita reale e vedete quale è migliore per voi. Solo non diffondete odio, che ce n'è già troppo il giro. Grazie. Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'hand card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo. Sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davido Giochi Channel. Arte a 360 gradi. Ciao!